Buongiorno a tutti e benvenuti al, credo, quasi ventesimo incontro delle macro letture. Siamo con Sandro Veronesi, che sono molto felice di ospitare in questo ciclo, per festeggiare il suo ultimo romanzo, che si intitola Il Colibri, pubblicato dalla nave di Teseo. È un libro di cui parleremo insieme all'amico scrittore Edoardo Albinati, che fra l'altro è stato il primo autore protagonista di questi incontri nell'ottobre 2018, forse qualcuno di voi lo ricorda, e con Fabrizio Gifuni, bravissimo attore, che è anche la voce dell'audiolibro che è stato pubblicato insieme al libro dalla nave di Teseo, Audible. Benissimo, ascolteremo anche qualche brano da questo libro, quindi, e non lo commenteremo soltanto. Prima di iniziare, dico due cose su Sandro Veronesi, velocissime. È un autore che in questo ciclo abbiamo invitato gli scrittori che ci sembravano i più importanti della scena contemporanea italiana, e Sandro Veronesi non poteva mancare. Non poteva mancare per ragioni, per tante ragioni. Io ne cito una, generazionale, diciamo, in qualche modo. Sandro è un autore che, diciamo, ogni cinque anni fa una specie di sintesi esistenziale delle nostre vite in forma di romanzo, in qualche maniera, ci accompagna. E lo fa lavorando duramente, seriamente, scegliendo le parole tecnicamente giuste per raccontarla e restituircela in qualche modo arricchita, in qualche maniera. Questa sua lunga avventura è iniziata nel 1988 con un libro che ha un titolo bellissimo, Per dove parte questo treno allegro, pubblicato dalla casa editrice Teoria a Roma. Prima c'era stata una raccolta di poesie pubblicata da un editore di Prato. Ah, eri tu l'editore di Prato, benissimo, autopubblicata. E questa è una cosa interessante perché molti degli scrittori della sua generazione hanno esordito con la poesia, con raccolte di poesia. E quindi anche lui è lì. Dopo, per dove parte questo treno allegro, pubblica Gli Sfiorati. Siamo negli anni, nel 90, con Mondadori. E da subito un gran successo, un libro che fa dire di lui, che è L'erede di Moravia. Non so quanti di voi se lo ricordano. Nel 95 esce Venite, venite, B-52 con Feltrinelli, un romanzo in cui dichiara il suo amore per la letteratura americana, in qualche maniera. E viene diseredato dall'essere L'erede di Moravia. Soprattutto si parla di Thomas Pynchon. Poi c'è una fase in cui, che viene definita nelle sue biografie ufficiali, giornalistica. Escono due raccolte di interviste, cronache italiane, mi pare, live. Poi, tu correggimi. Poi c'è un libro inchiesta sulla pena di morte nel mondo, che io ho amato molto, Occhio per occhio, si intitolava. Poi un album ancora. In quegli anni lui è anche autore di una bella trasmissione culturale di Re 3, magazzini Einstein. E fa un sacco di cose. Fonda Fandango Libri insieme a Domenico Procacci. Anche una radio, mi pare, insieme ad altri. Come si chiamava la radio? Radio Gas. Radio Gas. Però arriva il romanzo nel 2000, La forza del passato. Un romanzo bello, con cui comincia un nuovo assemblaggio di vita, in qualche maniera, che si intitola La forza del passato. Con questo romanzo vince il premio Viareggio e il premio Campiello. Di nuovo, insomma, alterna. Dopo questo romanzo c'è di nuovo una fase così di riflessione, in cui lui si rifà testimone del suo tempo, non attraverso la forma romanzo, ma con libri di testimonianza diretta della nostra realtà. E l'altro romanzo, il grande romanzo, quello che gli darà un grande successo, arriva nel 2006, Caos Calmo, vince il premio Strega, vince anche il premio, il Prix Femminà a Parigi e il premio Mediterraneo per gli stranieri. Da questo romanzo viene tratto un film interpretato e diretto da Ranni Moretti, Caos Calmo. e c'è un cellulare che squilla. Forse il mio, perdonate. Vergogna! Vergogna! Vergogna, totale. Ho iniziato troppo in fretta. Scusate. Siamo a Caos Calmo e... Diretto da Antonello. Diretto? Non da Nanni, ma da Antonello. Certo, è vero, è vero. Però insomma, Nanni l'aveva fatto suo talmente tanto che pensavo fosse anche diretto. Infatti è uno dei primi film in cui lui recita soltanto, mi pare. Prima di arrivare a Colibri ci sono ancora altre cose da dire. Per esempio, un grande lavoro comincia a pubblicare... Nel 2015 cambia editore. Questi libri erano stati pubblicati da Bonpiani, no? Anche Caos Calmo. Però nel 2015 c'è la nuova casa editrice La nave di Teseo e lui comincia a pubblicare con La nave di Teseo. La fondo anche. La fondi anche. Io do due picconatine. Però le do... Una importante casa editrice indipendente che sta andando benissimo fra l'altro. Si è collocata molto bene nel panorama editoriale italiano contemporaneo. Prima di pubblicare l'ultimo romanzo Per la nave di Teseo pubblica due libri che sono dunque aiutami Un Dio ti guarda e Cani d'estate. Che succede? Che in questi libri lui di nuovo abbandona la forma lascia la forma romanzo e si fa testimone diretto del suo tempo. Da scrittore e da intellettuale in qualche maniera si immerge nella realtà sociale del paese del nostro paese e prende una posizione molto forte e molto netta rispetto al problema dei migranti. Questa cosa lo quindi lo fa da cittadino direi in qualche modo. Prende una posizione netta anche politica e fra l'altro costruisce un grande consenso intorno a questa sua posizione. Nel frattempo però scriveva faceva letteratura mentre accadevano queste altre cose e nel 2019 arriva il Colibri. Colibri è un romanzo di cui appunto faremo parlare Edoardo Albinati soprattutto e io voglio dire solo una cosa che è ho letto recentemente in un'intervista di Antonio Gnoli a Giuseppe Conte Giuseppe Conte il poeta genovese riferiva di una definizione di Umberto Eco che ha detto il romanzo in fondo è ve la leggo esattamente perché mi sembra perfetta è una forma di educazione al fato e questa definizione di romanzo di Umberto Eco mi sembra che riguardi tantissimo tutta la tua esperienza di narratore ma in particolare il Colibri ora però parola a Edoardo Albinati per entrare in questo libro a Fabrizio Gifuni che fa la prima letta ah già è vero ascoltiamo prima un brano da Fabrizio Gifuni cosa ci leggi? abbiamo deciso insieme a Sandro due brani scelti da lui e un ultimo che non gli ho detto scelto da me il primo che ha scelto Sandro si chiama Un filo un mago tre crepe dove si chiama? in quale punto del romanzo? no ma io leggerei tu legge mi fiderei delle parole di Sandro Un filo un mago tre crepe 1992 95 dovrebbe essere noto e invece non lo è che il destino dei rapporti tra le persone viene deciso all'inizio una volta per tutte sempre e che per sapere in anticipo come andranno a finire le cose basta guardare come sono cominciate in effetti quando un rapporto nasce c'è sempre un momento di illuminazione nel quale si riesce anche a vederlo crescere distendersi nel tempo diventare ciò che diventerà e finire come finirà tutto insieme si vede bene perché in realtà è già tutto contenuto nell'inizio come la forma di ogni cosa è contenuta nel suo primo manifestarsi ma si tratta di un momento per l'appunto e poi quella visione ispirata svanisce o viene rimossa ed è solo per questo che le storie tra le persone producono sorprese danni piacere o dolore imprevisto lo sapevamo per un lucido breve momento l'avevamo saputo all'inizio ma poi per il resto della nostra vita non l'abbiamo saputo più come quando ci si alza dal letto di notte e ci si ritrova brancolare nel buio della nostra stanza per andare in bagno e ci sentiamo smarriti e accendiamo la luce per mezzo secondo e poi la rispegniamo subito e quel lampo ci mostra la strada ma solo per il tempo necessario ad andare a fare la nostra pisciatina e ritornare al letto la prossima volta saremo di nuovo smarriti quando il disturbo percettivo di sua figlia Adele si manifestò all'incirca l'età di tre anni Marco Carrera ebbe quel lampo vide tutto ma quella visione fu così insopportabile aveva a che fare con sua sorella Irene che immediatamente dopo la rimosse e continuò a vivere come se non ci fosse mai stata forse con la psicanalisi avrebbe potuto recuperarla ma assediato come era da persone che vi facevano ricorso per la psicanalisi Marco aveva sviluppato un'insuperabile avversione questo almeno era quanto diceva lui uno psicanalista invece avrebbe potuto dire che quell'avversione era per l'appunto il meccanismo adottato per difendere la sua rimozione fatto sta che la rimozione fu immediata e profondissima tanto che quella visione mai più riaffiorò anche dopo che le cose furono andate come dovevano andare come Marco Carrera per un momento all'inizio aveva saputo che sarebbero andate e per il resto della sua vita non più data l'età della bambina si può dire che l'esordio della sua patologia coincise con l'inizio del suo rapporto col padre fino a quel giorno abbastanza indefinito e a determinare questa coincidenza fu la bambina stessa con la prima probabilmente risoluzione autonoma della sua vita fu infatti in una luminosa domenica di agosto mentre lui e lei stavano facendo colazione nella cucina della casa di Bolgeri e la madre era rimasta a letto ancora un po' che Adele Carrera comunicò a suo padre di avere un filo attaccato alla schiena nonostante l'età si spiegò molto chiaramente un filo partiva dalla sua schiena per andare a finire nella parete più vicina sempre per qualche ragione nessuno lo vedeva e quindi lei era costretta a stare sempre attaccata al muro per evitare che la gente ci inciampasse o ci rimanesse intrappolata e quando non ci puoi stare le chiese Marco attaccata al muro come fai Adele gli rispose che in quei casi doveva stare molto attenta e se qualcuno le passava dietro le spalle e rimaneva impigliato nel suo filo lei doveva girargli intorno per liberarlo e gli fece vedere come Marco continuò a fare le domande ma ce l'avevano tutti questo filo attaccato alla schiena o ce l'aveva solo lei ce l'aveva solo lei e non le pareva strano sì le pareva strano le pareva strano di avere il filo o che gli altri non l'avessero le pareva strano che gli altri non l'avessero e in casa le chiese come fai come fai con la mamma con me ma tu le spiegò la bimba non mi passi mai dietro la schiena ecco fu qui fu in questo momento dinanzi a questa rivelazione così sorprendente lui non passava mai dietro la schiena di sua figlia che Marco Carrera sentì un brivido e il suo rapporto con lei ebbe inizio e fu sempre in questo momento che vide che seppe che si spaventò e per questo subito dopo questo momento si dimenticò di avere visto di avere saputo e di essersi spaventato per il resto dell'estate quel filo fu il loro segreto in realtà Marco ne aveva parlato subito con Marina ma senza dirlo alla bambina dato che lei gli aveva chiesto di non parlarne con nessuno Marina in quell'agosto si sforzò di non passare più dietro la schiena di sua figlia in spiaggia in casa in giardino ma con scarsi risultati dato che se ne ricordava sempre troppo tardi in quelle occasioni osservava la piccola passarle davanti in senso contrario per sbrogliare la matassa precisa paziente e si commuoveva poi osservava i nonni all'oscuro della faccenda passarle sempre dietro la schiena pareva lo facessero apposta e lei che ripeteva quel movimento inverso anche con loro con la stessa precisione con la stessa pazienza e si commuoveva poi osservava il rapporto appena sbocciato tra lei e il padre ammirava il talento naturale di lui nel non passarle mai sul serio era vero mai dietro la schiena e si commuoveva Marco la vedeva commuoversi e si commuoveva fu per entrambi un'estate commovente di preoccuparsi non passò per la testa a nessuno dei due buongiorno a tutti quanti una cosa forse un po' irrituale nella presentazione di un libro dare come per scontato che l'abbiano letto tutti io oggi vorrei preferirei fare così per non essere costretto a raccontare una storia che è molto intricata e probabilmente facendo questo anche rovinerò la lettura a quelli che ancora non l'hanno fatta ma mi dispiace mi sembra che ci sia una sorta di intimità possibile tra tra me che è seduto a questo tavolo voi altri su un libro di questo tipo per cui come dire lo tratterò come se fosse i promessi sposi a cui più avanti in effetti mi riferirò è un libro centrato sulla rinuncia sul pagare un prezzo un prezzo nel libro stesso viene detto un prezzo morale talvolta anche un prezzo fisico un costo le azioni hanno un costo le proprie le altrui le casualità gli accidenti le cose che si desiderano e che si temono tutte queste cose hanno un prezzo la caratteristica di questo principale di questo personaggio che ci guida attraverso tutta la storia appunto il colibri sarebbe quella di riuscire malgrado le tempeste che lo investono a restare come fa appunto il colibri che battendo le ali velocissimo riesce a restare fermo anche quando infuriano gli elementi contrari vorrei dire che è un'immagine bellissima è un'immagine che nasce da un equivoco dal fatto che il protagonista sia molto piccolo molto esile quando è bambino ma poi invece si rivela il significato del nome strada facendo essere la verità del nome e anche un piccolo capitolo di cui poi vorrei anche chiedere a Sandro come come ha affrontato questo tema è sui nomi di questo libro ho provato nella mia seconda lettura questo forse è l'unico libro volevo dirlo che io ho letto due volte di fila in tutta la mia vita in bozze un paio di mesi fa e poi stampato adesso ho fatto mente locale ho detto ma hai mai letto lo stesso libro una volta dopo l'altra no quindi averlo presente in questo modo mi ha fatto anche approfondire temi come questo dei nomi i nomi scelti per i vari personaggi apparentemente dunque sarebbe un libro sulla questa parola che quando l'ho letta la prima volta mi sono venuti i brividi però ho detto oh no anche Sandro con la resilienza anche lui perché parola che non esisteva fino a due anni fa tre anni fa quattro anni fa ed è diventata invece di uso comune però in questo caso forse lo spiega anche credo spiegato Sandro da qualche parte usata a buona ragione perché normalmente la si fraintende con resistenza cioè resistere invece la resilienza sarebbe la capacità di un materiale di tornare a essere esattamente quello che era prima di aver subito una pressione una torsione un cambio di temperatura però questo ho pensato che non è così vero nella storia cioè sì è vero che Marco Carrera sembrerebbe passare attraverso come appunto il colibri che rimane immobile nell'aria sembrerebbe restare sempre fermo ne fa anche ne viene fatta una lode una celebrazione di questa capacità di restare fermi mentre tutto il resto cambia tutti gli altri si muovono anche scompostamente disperatamente dando la sensazione che così la loro vita migliori o peggiori o cambi comunque che sia il cambiamento la cosa positiva e il restare fermo invece la cosa negativa in realtà io ho trovato moltissimi spostamenti cambiamenti anche rispetto ad altri libri di Sandro Veronesi faccio l'esempio forse più noto a tutti cioè Caos Calmo laddove il protagonista a un certo punto si fissa si ferma e rimane lì su quella panchina davanti alla scuola della figlia un rapporto che per molti versi anticipa quello di questo romanzo il rapporto tra Marco e sua figlia poi Marco e sua nipote con una grande differenza e qui invece abbiamo proprio la mobilità anzi il simbolo stesso della mobilità è che da un certo momento in poi diventa fondamentale nella storia questa amaca o amaca non ho mai saputo bene qual è il modo giusto di dirlo questa amaca portatile con cui Marco porterà con sé in tutte le sue serate nottate la nipotina Mirai Jin che diventa proprio il simbolo stesso di questa capacità di adattamento attraverso la mobilità quindi quanto di meno statico si possa immaginare se uno addirittura va a fare le serate di gioco d'azzardo a giocare a perdere a vincere molti soldi portandosi la propria nipotina dentro una marca portatile il riferimento a a Moravia mi è venuto in mente quando ho ricordato quel giudizio che Moravia dava non era un giudizio era una constatazione sui promessi sposi di Manzoni e cioè che in quel romanzo manca una sola cosa c'è tutto il resto ma manca una sola cosa e questa cosa è l'amore io penso che questo sia vero anche di questo romanzo in modo in modo paradossale perché di amore ce n'è tanto ce n'è in tante forme manca la passione manca la passione intesa l'amore sessuale l'amore di un uomo per una donna o di un uomo per un uomo o comunque quella cosa che che fa bruciare l'esistenza c'è in realtà c'è nella forma di questo amore platonico questo amore a cui Marco e Luisa che Marco e Luisa coltivano e al tempo stesso reprimono che rinunciano per tutta la vita appunto quindi un amore mancato c'è l'amore tra i genitori di del protagonista Probo e Letizia ma poi il narratore stesso raccontando la loro storia e devo dire che quelle sono tra le pagine più belle del libro è un amore che in realtà non è mai esistito nella forma propria e c'è l'amore naturalmente di Marco Carrera con la sua prima moglie con Marina Molitor ma entrambi devono riconoscere che questo è stato soltanto non tanto uno sbaglio quanto un'illusione e una cosa anche molto sorprendente in questa seconda lettura è che una volta che Marco si separa da Marina per tutto il resto della vita apparentemente per quello che è contenuto in questo libro così dettagliato sulla vita di un uomo non c'è più nessun amore o meglio c'è ma è l'amore per la figlia e poi per la nipote un amore come forte fortissimo quanto è l'amore per la sorella mancata Irene è come se e qui mi viene in mente Tolstoi piuttosto che Manzoni è come se l'amore contaminato dal sesso renda impossibile l'amore stesso e questo si possa esprimere soltanto in un rapporto uomo-donna con una donna che non sia legata sessualmente che non sia desiderata sessualmente quindi la sorella maggiore Irene quindi la figlia quindi la nipote i personaggi femminili di questo libro sono straordinari a mio avviso ma possono essere raggiunti dall'autore soltanto in questa forma di castità solo la castità permetterebbe che l'amore fluisca veramente non venga contaminato non venga distrutto non venga bruciato dalla sua stessa dalla sua stessa forza il libro è tutto costruito devo dire sicuramente da tutti quelli che io ho letto di Veronesi quello costruito in maniera più più mirabile più sapiente più più romanzesca nel senso proprio del termine è costruito su alcune simmetrie mi ricordo che all'università ho studiato il libro di un critico americano mi sembra fosse Frank Kermode che si chiamava Aghiaccianti simmetrie e molte di queste effettivamente aghiaccianti sono a partire da quella della famosa corda che lega la bambina ad Ele la corda immaginaria che poi diventerà nella seconda parte del libro una corda reale e ugualmente simmetrico devo dire con un colpo notevole di teatro romanzesco è il ritorno di questo amico di infanzia l'ogiettatore Duccio Chilleri in una situazione dove la sua funzione paradossalmente si rovescia diventa all'esatto opposto di quella che era stata di quella che era stata all'inizio e questo mi ha fatto venire in mente una specie di legge narrativa un mitico anzi più che narrativa una legge mitica quella del mito di Telefo il quale ferito dalla lancia di Achille alla coscia non guarirà se non verrà curato dalla lancia di Achille cioè la stessa identica arma che ha procurato la ferita sarà l'unica cosa che potrà guarirla cioè questa specie di chiusura del cerchio attraverso la ripetizione ma una ripetizione di segno opposto la compattezza di questo libro è stupefacente anzi per usare un aggettivo molto caro a Veronesi visto che l'ho ritrovato almeno 20 volte in libro prodigiosa ci sono alcuni aggettivi che Sandro ama uno di questi è selvaggio l'altro è prodigioso e in effetti abbiamo esattamente la stessa la stessa struttura una struttura apparentemente molto selvaggia ma poi prodigiosamente simmetrica ora però la simmetria come si sa è anche un limite è la chiusura cioè quando una cosa si è perfettamente bilanciata e simmetrica poi rischia la staticità come viene rotta questa staticità da un principio che viene enunciato da questo personaggio una specie di Deus ex machina che nel corso del romanzo apparirà varie volte ma sempre decisive che è questo psicanalista tenete conto che in tutto il libro per chi non l'ha letto c'è un sarcasmo una diffidenza quasi una una insopportabilità del personaggio Marco Carrera rispetto al fatto che tutte le persone che hanno a che fare con lui tutti vanno dallo psicanalista e lui è l'unico diciamo così deve affrontare non soltanto mogli figli parenti amici che vanno dalla psicanalista che sono in qualche misura guidati da loro e lui invece nutre verso questa disciplina questa pratica una grande diffidenza bene qui c'è questo Carradori che poi apre il libro con queste rivelazioni clamorose però poi tornerà ogni volta a consigliare minacciare consolare completare la visione di Marco è una delle cose più più giuste che dice che dice Carradori quando Carrera si troverà ad affrontare l'ennesimo lutto è questo fatto di non rinunciare nel lutto al piacere al principio ecco che quel principio di piacere che sembrerebbe essere stato dimenticato per strada per tutta la vita represso nascosto o semplicemente non mai realizzato ecco che Carradori arriva e dice al protagonista se lei si occupasse di Miraijin con il vuoto nel cuore le trasmetterebbe quel vuoto se invece quel vuoto cerca di riempirlo e non importa se ci riesce o no basta che lei cerchi di riempirlo allora le trasmetterà quello sforzo e quello sforzo semplicemente è la vita mi creda io mi occupo ogni giorno di persone che hanno perso tutto spesso sono i soli superstiti del loro intero nucleo familiare hanno problemi materiali di ogni tipo e a volte hanno anche brutte malattie ma lo sa che cosa su che cosa lavoriamo lavoriamo sui desideri sui piaceri perché anche nella situazione più disastrosa i desideri e i piaceri sopravvivono siamo noi che li censuriamo quando siamo colpiti dal lutto censuriamo la nostra libido mentre è proprio quella che può salvarci ti piace giocare a pallone giocaci ti piace camminare in riva al mare mangiare la maionese dipingerti le unghie catturare le lucertole cantare fallo qui a passare questo dipingerti le unghie non posso pensare che non sia un chiaro riferimento a una delle cose che Sandro ha scritto sul Iosefa la donna salvata in mare a cui fu incredibilmente rimproverato di avere le unghie dipinte che erano state le persone che l'avevano soccorsa per tirarla un po' su di morale a dipingerle non so se venga da lì ma chiaramente leggendolo non potevo fare a meno di pensare questo allora finisce Carradori questo non risolverà nemmeno uno dei tuoi problemi ma nemmeno li aggraverà e nel frattempo il tuo corpo si sarà sottratto alla dittatura del dolore che vorrebbe mortificarlo ecco da questo punto in poi ho ricominciato a rileggere il libro nella forma consigliata da Carradori cioè dopo malgrado Marco prenda tutte queste bastonate apparentemente per tutta la vita che cos'è che poi lo salva salva lui salva il lettore salva il romanzo salva la vita di tutti quanti la possibilità di ricavare del piacere sempre e comunque questo è un piacere che nella letteratura è un piacere di tipo tecnico a noi piace a me piace a tutti piace leggere delle cose che ci diano piacere e in questo libro ci sono delle zone di piacere narrativo assoluto purissimo qui non so ce n'ho una quantità segnata che fa abbastanza impressione vorrei citarne qualcuna perché secondo me è talmente smagliante questa scrittura che merita di essere riportata a brevi o a lunghi tratti una per tutte è questa storia di di Marina Molitor un personaggio che se vogliamo ha una funzione nel libro potrebbe anche risolversi più facilmente più rapidamente però le viene dedicata come in certi film un certo attore ha poi il suo momento il suo viene dedicato un capitolo narrativamente meraviglioso di cui vorrei leggere l'ultima pagina se avete voglia e pazienza di ascoltare beh si la leggo dai ora è imbarazzante anche solo paragonare ciò che Marina teneva nascosto a Marco con ciò che lui nascondeva a lei non è nemmeno la faccenda dell'uomo con il fucile che incontra quella con la pistola qui si tratta proprio di una bomba contro una fionda eppure la scoperta di quel tradimento poco importava se quei due cazzoni che sono Marco e Luisa non scopavano era un tradimento nelle lettere si dicevano cose vomitevoli caricò Marina di una cattiveria che non aveva mai avuto che fece di lei una persona veramente pericolosa scaraventata di nuovo fuori discorso la rete gettata dal dottor Carradori non fu più in grado di contenerla l'autorilisionismo si combinò con l'aggressività l'intelligenza con la scelleratezza la sensibilità con la cattiveria e Marina fece quello che fece e quello che fece fu meno terribile solo di quello che per un pelo non riuscì a fare era una creatura selvaggia Marina selvaggia e incoercibile uscire definitivamente da qualsiasi discorso ebbe per lei il valore di un ritorno a casa dopo un'intera vita vissuta in esilio e l'onda d'urto prodotta da quel ritorno non risparmiò nessuna delle persone che si trovavano nel raggio coperto dal suo dolore perché una cosa è certa Marina soffrì soffrì atrocemente per la morte di sua madre soffrì per la scoperta del tradimento di Marco soffrì molto nel fare quello che fece dopo soffrì ancora di più nel non riuscire a farlo come avrebbe voluto e infine soffrì a cose fatte paurosamente indicibilmente senza più scampo quando si ritrovò da sola al centro del cratere che la sua furia aveva prodotto solo che di nuovo Marco questo l'avrebbe capito solo tanti anni dopo quando tutto gli sarebbe diventato chiaro ma non sarebbe servito più avrebbe capito che la colpa era stata sua lei si era solo inventata un lutto ma lui le era piombato addosso e l'aveva travolta con la favola che erano fatti l'uno per l'altra non erano fatti l'uno per l'altra nessuno è fatto per nessun altro a dire il vero e persone come Marina Molitor non sono fatte nemmeno per se stesse c'erano ancora quattro righe ma non le leggo tanto comunque insomma il discorso allora è questa cosa qui questa perfezione che io dico accidenti che cosa dire se non un appello anche se forse sarà controproducente ai produttori cinematografici di non fare un film da questo libro perché questo non si può tradurre non c'è niente non c'è voce fuori campo non c'è serie di immagini non c'è sceneggiatore abile questa roba qui si può soltanto fare così poi si può fare altro nel cinema si può fare tantissimo altro però questa cosa qui non si può fare e porto come esempio del resto Veronesi stesso lo dice è una cover di Fenoglio non è roba sua questo capitolo che si chiama Ai Mulinelli di cui non spaventate vi leggo solo tre righe tre righe che potrebbero sembrare insignificanti perché dice vabbè ma così stanno scrivere tutti e no invece no non è così scrivere così semplicemente questo veramente forse sto facendomi le pippe da scrittore però effettivamente è proprio così il cielo era coperto gravido di pioggia la luce fuliginosa nel crepuscolo stava ormai svanendo l'aria era calda e appiccicosa si udiva distintemente il rumore del mare arrabbiato questo secondo me quando scrive così Sandro è il migliore scrittore italiano ma di spanne diciamo così e proprio quando rinuncia completamente al virtuosismo quando non c'è nessuna come dire non c'è quello che credo che insieme anni fa noi definissimo il passo spinta nello sci quando uno deve aumentare la velocità la potenza facendo come dire uno sforzo qui non c'è apparentemente alcuno sforzo è perfettamente naturale e rivolgerei quindi visto che questo capito è tratto da Fenoglio un invito a Sandro e anche a tutti gli altri scrittori italiani che lasciano perdere Pinchon definitivamente lasciano perdere David Foster Wallace forever e forse invece Fenoglio come guida luminosa possa servire di più a tutti noi questo è un appello disperato perché non verrà ascoltato ma comunque insomma non la voglio fare tanto lunga quindi soltanto ancora sui nomi il piacere dei in questo caso il piacere del trovare i nomi questo poi magari quando sarà il suo momento di parlare vorrei che lui almeno un istante mi confermasse Duccio Chilleri il mago Manfrotto il mago Manfrotto trovo che sia il più bel nome che è il nome dello psicanalista infantile che cura Adele Piel Leggero e le gemelle Sollima l'endocrinologo Vavassori anche qui mi chiedo se ci sia il nome del vecchio difensore del Bologna degli anni 60 secondo me sì Luigi Dami Tamburini personaggio fondamentale di tutta la storia e poi in un intero capitolo dedicato allo psicanalista dove qui vediamo questo risentimento del protagonista verso l'analisi dei psicanalisti in cui lui si diverte a storpiare il nome della psicanalista francese di Luisa infatti il capitolo si chiama Brabanty perché immagina naturalmente che sia un nome italiano ma pronunciato alla francese allora lui per prenderla in giro la chiama Madame Briccoli Strippoli poi la chiama Braccioli Croccanti Propoli Struffelli e poi alla fine Brabanty anche qui mi chiedo se Brabanty abbia un'origine nel famoso caso Brabanti ecco questa 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 scoperta di dettagli tecnici qui ne ho riportati tanti altri pezzi meravigliosi che però non abbiamo il tempo di leggere e chi l'ha letto già se le goduti chi lo leggerà penso che farà lo stesso tutto questo porta nient'altro che a un equilibrio cioè questo piacere che viene suggerito a Marco Carrera di cercare questo questo godimento possibile anche nella tempesta anche nella anche nella tragedia è ciò che forma l'equilibrio di questo libro cioè ecco perché riesce a stare fermo questo colibri proprio perché le controspinte del dolore ma anche quelle del piacere riescono a tenerlo a farlo galleggiare nell'aria e una cosa che infatti mi ha colpito moltissimo come soluzione possibile come come invito possibile come saggezza come quello che si chiama il messaggio insomma del libro alla fine ce l'ha sto ce l'ha sto libro il messaggio ma non è tanto quello della nipote perfetta l'uomo nuovo che nascerà che mi sembra come dire una soluzione narrativa necessaria per poter far sfogare a questo pover uomo una speranza in un futuro migliore paradisiaco ma invece ciò che lo ha conservato vivo è esattamente questa capacità di rifornirsi anche di piacere non attraverso l'amore sessuale attraverso altre altre forme altre forme oblique dell'amore l'amore si si trasmette in modi molto diversi e quindi c'è credo che sia l'ultimo dibattito l'ultimo dialogo tra Carradori e Carrera laddove Carradori gli chiede beh ma insomma come state dopo tutte queste tragedie dopo tutte queste disavventure come state e a volte Carrera dà una risposta molto saggia molto forte molto bella e anche molto semplice dice in fin dei conti non siamo stati spazzati via cioè alla fine come dire forse il risultato minimo che si può raggiungere però viene raggiunto Firenze 13 aprile 2005 cara Luisa mi sono appena svegliato da un sogno potentissimo nel quale tu eri la protagonista e l'unica cosa che posso fare è raccontartelo eravamo ragazzi e si era in un posto come Bolgheri ma non era Bolgheri non gli somigliava affatto anche se noi tutti ci sentivamo a casa e dico noi tutti perché nel sogno compare un po' di gente ma io sarò sempre solo dall'inizio alla fine era un posto di mare ma di nuovo il mare non c'era c'era piuttosto un paesaggio d'autunno americano una lunga incredibile strada in discesa sotto gli alberi dalle foglie arancioni e per terra uno spesso tappeto di petali di fiori io scendevo per questa strada da solo correndo ma vestito da città con un giubbotto di camoscio alla mia destra c'erano ville giardini alla sinistra gli alberi e dietro di loro il mare ma non si vedeva e nemmeno si percepiva a dire la verità perciò alla fine non c'era in fondo alla strada quando la discesa finiva c'era casa tua e tanti ragazzi invitati a casa tua a divertirsi nella piscina di casa tua anche se la piscina non c'era i ragazzi erano quelli che frequentavi quando ci siamo conosciuti i rampolli fiorentini festaioli ventenni ma non erano loro di sicuro io non ero invitato mio fratello Giacomo invece sì lui era invitato ed entrava dal cancello col telo sulla spalla guardandomi con commiserazione ma soprattutto Luisa c'eri tu perché eri dovunque perché tutto quel posto era te e tu eri tutto fin dall'inizio della strada lassù fin dagli alberi arancioni e dalla pazzesca coltre di petali sui quali si camminava e la tua voce mi dava appuntamento alla fine del pomeriggio dopo la festa alla quale non ero invitato alle otto meno un quarto e tuttavia Luisa come Bolgheri come il mare come la piscina tu non c'eri e io ero diviso spaccato in due da una parte la delusione per non essere invitata alla festa in piscina dall'altra il sollievo nel sapere che non c'era nessuna piscina e probabilmente anche nessuna festa da una parte l'adorazione di te che eri ovunque e rendevi quel posto meraviglioso dall'altra la delusione per l'assenza di te che non c'eri da una parte la speranza assurda di avere la mia parte di te a quell'appuntamento delle otto meno un quarto dall'altra la tristezza di vedere Giacomo e gli altri entrare nel tuo giardino senza poterli seguire la tua voce Luisa teneva insieme tutto compreso me compresa la mia vita una specie di voce fuori campo che dipingeva addirittura tutta quella bellezza ma tu non c'eri non c'eri non c'eri poi mi sono svegliato di soprassalto cinque minuti fa e mi sono messo subito a scriverti perché non c'è altro modo di dirti come sto e sono ancora diviso Luisa anche da sveglio sono ancora spaccato da una parte sono felice che ci sia un posto nel mondo dove tu riceverai questa lettera dall'altra sono infelice perché questo posto non è qui dove mi sono svegliato dove ti sto scrivendo dove ogni giorno vivo e vivrò un bacio Marco sarà difficile per Sandro Veronesi rispondere ora a tutte le questioni a tutte le tante cose bellissime che ha detto Edoardo Albinati ne parlerete anche a cena credo però comincio dai nomi perché dopo 30 e passa anni è successo un casino io sono sempre stato uno convinto che si dovesse lavorare molto per trovare il nome giusto ai personaggi anche ai personaggi secondari anzi più sono secondari più compaiono per due righe e più il nome è importante perché devono deve dare l'idea che hanno vissuto con quel nome prima e dopo quelle due righe io ricordo una volta che andai a fare lezioni alla Holden io dovevo svoltare non sono uno molto preparato perché sono un'autodidatta non ho fatto l'università e quindi tutte le volte facevo lezioni dovevo svoltarla questa lezione dovevo trovare il modo di fare a della gente che pagava una lezione che valesse la pena e da aver pagato e quindi non avendo struttura non potendomi mettere lì a fare il discorso su che è quello poi alla fine che rende di più parliamoci chiaro perché lì la resa è sicura perché ci sono anni secoli diciamo di tradizione tu attingi però io questo sì qualche volta ma un po' così una volta svoltai una lezione sui nomi facendo a pezzi un racconto di Rugarli Poraccio che era stato pubblicato sul giornale proprio nel giorno in cui andavo su col treno era un racconto che aveva questo titolo tutta colpa di quei maledetti diverticoli ed era la storia una storia di mala sanità nella quale però il chirurgo si chiamava Coltello il professor Coltello e poi c'era lui si chiamava Angelo insomma io dissi adesso vi leggo questo racconto era un racconto di una pagina di Corriere della Sera quindi presi un quarto d'ora erano allibiti e poi lo feci in mille pezzi stracciandolo anche con molta rabbia è rimasta una delle lezioni più ammirate poro Rugarli però in effetti anzi poi ripetei tirai un libro di Crovi fuori dalla finestra insomma capì che quella cosa funzionava e io riuscivo a coprire con queste azioni contro un modo di scrivere riuscivo a coprire la mia incapacità di spiegare bene il perché però fin da allora io avevo questo problema cioè i nomi ragazzi sono fondamentali allora ho cominciato a sviluppare una serie di metodi per procurarmi per anni io ero soprattutto a Roma perché già vivevo a Roma ero inseguito dai portieri degli stabili dica col dica perché io mi copiavo i nomi perché pensavo questi nomi sono abituati a stare insieme se voi andate a guardare i quadri dei campanelli ci sono dei nomi altro che dammi tamburini altro che ci stanno dei nomi pazzeschi stanno lì e stanno insieme capito c'è Battistuta c'è dei Battistuta a Roma capito che uno dice ma questo nome ma da dove viene è un dio no sta avvia coso capito c'è di tutto nei quadri dei campanelli di Roma c'è di tutto però c'è sempre diga e vagli a spiegare che ti stai procurando nomi per il romanzo allora io mi sono procurato questa enorme riserva di nomi alla quale ho attinto per parecchi per parecchi romanzi però nel frattempo mi era venuta anche un'altra idea soprattutto per i personaggi con più rango di prendere i nomi dei degli avversari sportivi miei e di mio fratello durante l'infanzia e l'adolescenza per cui Gianni Orzan protagonista della Forza del Passato era uno che qualche volta batteva mio fratello a sci e qualche volta perdeva era molto forte Orzan si chiamava il nome glielo ho dato io e l'ho dato anche a un figliolo quindi era un nome che mi piaceva Gianni Orzan invece era questo cognome Orzan perché era uno forte questo Orzan batteva mio fratello che era forte capito e c'era Orzan Cardoso un altro forte però era un po' troppo ispanico diciamo e questa storia è andata avanti perché in XY non c'è la famiglia Formento e Formento era il cognome di abetonesi fortissimi a sciare che vincevano le femmine la ragazza vinceva tutto il maschio lottava con altri abetonesi fortissimi però insomma Formento e non Formenton sono due cose due mondi diversi se gli levi se gli levi allora io e quindi c'avevo anche quest'altra poi ebbe perché mi stufavo quelli migliori li avevo tutti presi allora di nuovo allora che cosa ho fatto ho preso sono andato diciamo al canile pubblico a prendere il cane cioè ho preso i cognomi che le persone che avevano un nome d'arte buttavano via no? Molly Thor è Silva Coscina è il cognome Silva Coscina che ha buttato via e l'ho preso io e ho fatto questa lunga lista di cognomi di gente che erano sono famosa ma sono diventata famosa con un altro nome hanno abbandonato quello e io l'ho usato l'ho usato come Dorigene Soffrano professor dottor Dorigene Soffrano che c'è a un certo punto in una appena vista targhetta è coso come si chiama Gimmi il fenomeno bravo Gimmi il fenomeno Origene Soffrano diventa diventa un professore dal doppio cognome era Gimmi il fenomeno perché è uno Bombolo l'ho messo addirittura è una delle famiglie delle quattro famiglie di 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 XY come si chiama Lechner delle quattro famiglie di XY che stanno lassù ci manano alle montagne del coso era Bombolo e sono andato avanti però ho cominciato a mischiarli questi questi cosi qua esatto esatto ho cominciato a mischiarli e che cosa è successo che poi alla fine con questo romanzo qua alcuni me li sono inventati cioè già Lombardo che dovevo citarlo perché era la squadra di tennis della quale faceva parte lui d'accordo già Lombardo io mai sentito un vitamina ma non so neanche se esiste appunto come Battistuta che dice esiste il cognome Battistuta esiste Battistuta ma non esiste il suo cognome invece esiste nei quadri dei Campanelli io non l'ho mai trovato né tra quelli che sono stati buttati via né tra gli avversari né però a questo punto dopo 30 anni di metodi per cercare i nomi adesso alle volte riesco addirittura a inventarmeli tutto per non avvicinarmi nemmeno al professor Coltello capito? perché non solo non devi chiamarlo Coltello ma non ce ne devi proprio pensare ed è difficile perché ti dice io ho un chirurgo come si chiamerà questo chirurgo e già ti sei invece devi andare a vedere gimmi il fenomeno origine soffrano perfetto proprio perché non c'è nulla più lontano dal professor Coltello che mi ha fatto fare così bella figura alla Holden quando ho fatto quella lezione però è vero che c'è un lavorio e c'è un tormento e ci sono delle cose che durano delle settimane finché non trovo il nome di una persona da menzionare solo lì e andare avanti e che però adesso ah un'altra cosa è che forse finirà adesso perché per la prima volta nella mia vita io adesso da un mese abbiamo fatto dei lavori nella casa e c'ho uno studio io non ho mai avuto uno studio ho sempre lavorato in soggiorno con la mattina tutto sommato c'erano solo i fornitori i fornitori ma i bambini escono tutti fuori ma dal pomeriggio in poi televisione cartone animati ehi maledetto topo e io che scrivo capito e ogni tanto arriva roba e vai che io la pigliavo perché stando lì ogni tanto arriva un nome anche da lì arriva una parola anche da lì e devi fare diciamo di necessità virtù mi ero abituato proprio anche a farmi a farmi aggredire e ad accettare qualche volta il suggerimento che veniva dal cartone animato o dal casino che facevano i figli adesso non sarà più così e mi sento infatti un pochino preoccupato che certe cose non mi raggiungeranno più però è vero ecco è vero che è una cosa del tutto accessoria è una cosa però se un lettore in qualche modo prova piacere anche a leggere un nome come io provo piacere quando vedo i quadri dei campanelli veramente ora qui c'è Leopoldo e Cecilia si ricordano benissimo che quando andavo a trovarli da ragazzo e suonavo e loro dicevano chi è io dicevo sempre un altro nome di quelli del loro coso loro ridevano ma a me piaceva quel nome e quindi e l'ho fatto anche con altri le mamme lo facevo da ragazzino perché erano un po' le mamme che mi dicevano che mi riconoscevano proprio perché dicevano chi è e io gli dico origine soffrano ma vieni su asino e andavo su questa paura di rimanere a corto di nomi poi forse sia da un punto di vista diciamo psicoanalitico ma anche da un punto di vista letterario potrebbe anche essere sviluppata cosa significa io ho bisogno di avere ho bisogno di avere una scorta di nomi anche se non me ne serve e godo tantissimo quando so che il problema lo risolverò perché ho talmente tanti nomi da parte che questo qua lo trovo di sicuro solo che la cosa che mi inquieta è che alcuni nomi ho cominciato a inventarmeli e questo non va bene perché è un modo di ritornare al coltello dall'altra parte fai tutto il giro e poi ti ritrovi a inventarti un nome evocativo comunque non devono essere evocativi se non di tutt'altro capito non devono essere evocativi minimamente della situazione in cui ci troviamo Carrera addirittura mi sono accorto lo volevo togliere perché Carrera prendo l'uomo che sta fermo Carrera fa venire in mente la carriera la gran carriera del cavallo quando oltre il galoppo c'è la carriera e invece non andava bene poi però ho detto forse questa cosa della carriera la so io perché faccio il giochetto ai bambini piccoli trotto galop Carrera forse non lo sa più nessuno che c'è la carriera dopo l'effetto positivo su questo lavoro che fai su questi tuoi personaggi anche per i nomi che hanno non ci sembra di conoscerli sembrano personaggi che fanno parte della nostra vita ma io credo veramente che noi abbiamo a che fare no insomma sono criteri però i criteri sono importanti se sbagli quello poi dopo è chiaro che ti ritrovi con dei nomi che devono essere insignificanti ma nel modo giusto dentro un romanzo perché li scegli quando te lo ritrovi un cognome te lo porti ma quando devi scegliere infatti la gente si sceglie il cognome d'arte no? più che il nome si sceglie il cognome e io vado a prendere quelli che ha scartato perché quelli per me sono preziosi sono cognomi che palpitano di tristezza perché sono stati abbandonati sono i canetti i cagnolini del coso e questa è la faccenda dei nomi la faccenda manca la passione la passione amorosa manca la passione amorosa manca la passione politica stiamo parlando degli anni 70 questo ragazzo cresce negli anni 70 e non c'è non c'è menzione della politica no? e la politica poi alla fine lo investe da vecchio nel futuro nella parte piccola parte che è ambientata nel futuro ma diciamo come può essere investito dalla politica il maggiordomo di Churchill che alla fine fa politica pure lui perché serve Churchill però non è che lui sia capito in prima fila è lui lo stesso si trova a servire una causa però non non direttamente è una passione che manca completamente no? sono due delle passioni diciamo più sociali che io conosca perché non puoi essere appassionato di amore sensuale fisico senza un altro o un'altra con cui fare le cose non puoi fare politica appassionata senza un gruppo di persone degli avversari un agone diciamo fisico lui invece fin da ragazzo è uno diciamo che appartiene a un'area abbastanza onanistica di gente che ascolta la musica sul giradischi che vanno a giocare ai cavalli insieme a questo Duccio Chilleri che è uno degli avversari lui era più pippa della verità però c'era questo nome bellissimo il fatto è che lui di nome si chiamava Sirio e io non ho potuto usare il suo nome ma pensate che bellezza uno si chiama Sirio Chilleri io ho messo Duccio che è una cosa più toscana ma è niente in confronto a Sirio Chilleri ecco questo Chilleri è uno è un giocatore d'azzardo incallito fin da prima di diventarlo ed è una persona che rifiuta qualsiasi rapporto con le donne lo dico in un attimo eccede la gente che non l'ha capito perché non sono non sanno di Firenze tutto quello che gli serviva lo trovava alle cascine alle cascine ci sono le prostitute a Firenze però chi non lo sa mi hanno fatto cosa trova queste cascine dove sono queste cascine ho detto vabbè il fieno gli serviva il fieno e andava nelle cascine e Marco Carrera diciamo che è assorbito molto nella sua infanzia e nella sua formazione da questo amico che poi appunto lui tradirà lui abbandonerà era un binario morto questo ragazzo diventa un binario morto e quindi lo deve abbandonare lo abbandona diciamo nel peggiore dei modi però poi doveva farlo perché altrimenti quando lo ritrova vede dove portava quel binario lì non ci sono quelle passioni perché Marco Carrera altrimenti non avrebbe potuto essere quello che volevo io cioè il figlio di Probo e il padre si chiama Probo un senso ce l'avrà no io conosco solo una persona che si chiama Probo la conosco molto superficialmente di Prato e mi ha mandato a chiedere perché hai chiamato il padre come me ho detto vabbè ora tutto sto ego l'ho chiamato Probo perché volevo che insomma a un certo punto lui padre e il figlio si chiedessero perché sono stati chiamati Probo perché quando ti danno un nome non il cognome ma un nome ti danno un destino o ti danno il ricordo del destino di chi te lo dà insomma anche lì i nomi non è che possono essere presi così a cavolo e questo Probo ha pensato che io non lo vedo veramente da 45 anni perché è un nome diciamo abbastanza non non comune però tutta questa la costruzione di questo universo nel quale si muove il protagonista secondo me doveva essere privo di queste vie di fuga perché è vero che diciamo la passione sessuale la passione amorosa è un cortocircuito micidiale cioè si spegne la luce si chiude la vena e dopo si riapre tutto e c'è un ingombro romanzesco da sistemare che può diventare anche tragico però c'è la cosa fatta è una cosa fatta che non poteva non essere fatta perché era veniva appunto da quella zona diciamo misteriosa dove si formano e dove prosperano le passioni che peraltro Marco Carrera ha perché per il gioco d'azzardo gli passa soltanto alla fine di tutta una vita passata a giocare oppure giustamente come ha osservato c'è la rinuncia a non giocare più pensando che questa rinuncia servisse alla causa della famiglia borghese che aveva messo su quando poi invece in realtà aveva evitato di capire ripetendo l'errore dei suoi genitori che proprio non andava neanche incominciata quella famiglia borghese lì altro che rinuncia quest'idea della castità è un'idea però vengono definiti due imbecilli da me e due cazzoni dalla moglie ma da me che in questo libro sono abbastanza appunto non sono molto intrusivo come voce dico poche cose come Sandro Veronesi più delle cose sono dette da una voce di narratore però questa la dico due imbecilli alla fine di una descrizione di quello che loro decidono di fare ma non devono toccarsi però vedersi sì però qua e là amarsi a 35 anni no a 12 punto due imbecilli però quella cosa per loro si struttura avete sentito quella lettera quella lettera dà conto di un amore vero profondo ed è anche quell'amore che loro hanno vissuto così c'eri non c'eri così tutta la vita è l'unico modo si vede per Marco Carrera di vivere quella storia di vivere le storie forse poteva vivere una storia intensa e anche sessuale solo con questa Marina che non era proprio il caso che lui scomodasse e che scomoda solo con la scusa che ha creduto a una sua bugia ecco questo uno dice ma io ho creduto è peggio cioè lei ha detto la bugia e va bene la censuriamo ma te ci hai creduto e sei veramente stronzo e la colpa è sua a un certo punto se ne fa anche una ragione per cui non è molto portato come persona perché secondo me era necessario altrimenti quel discorso sui piaceri che è molto importante non si poteva fare perché fatto un discorso sui piaceri in questo modo secondo me se il piacere numero uno era Luisa Drew abbassi la sala cinesca dice ciao a tutti io ho una donna amo una donna sta a Parigi via quindi è un'esigenza narrativa più onanistico cioè più solipsistico se vogliamo di persona che le grandi cose le fa da solo non le fa insieme a contatto con le persone che ama lui le ama le persone però c'è un solo momento nel quale lui dice questa è la famiglia felice dove lui finisce a fare il parto in acqua con sua figlia cioè la figlia gli chiede siccome il padre del suo nipotino non si sa chi è e lei non lo dice gli chiede se va lui e trovarsi in questo brodo caldo dove viene al mondo l'uomo nuovo perché la figlia si era fissata che dovesse essere così infatti lo chiama con questo nome poi è una femmina ma comunque sempre uomo nuovo si chiama in giapponese quando lui è lì in questo brodo che mette insieme lui il suo corpo già un po' stagionato quello bello tonico della sua figliola e questo esserino che guizza ecco lui lì c'è qualcosa di carnale però c'è il brodo cioè non è non è un contatto secco non è un prendere è un essere tenuto insieme da una placenta chiamatela come vi pare che mette c'era per l'appunto anche la placenta in quel brodo che mette insieme la famiglia la tiene insieme e la rende felice quello è l'unico momento carnale veramente carnale che io descrivo l'ultima cosa che vorrei dire riguarda proprio Fenoglio e questo racconto che è veramente una cover però una cover non vuol dire che ho copiato le prime due righe e l'ultima sì infatti avevo il terrore che lui dice adesso leggo tre righe le prime tre quelle sono di Fenoglio e l'ultima è di Fenoglio invece no quella roba lì e anch'io sai che ho fatto lo stesso ragionamento cioè quando mi sono messo a scrivere ai mulinelli se voi lo vedete è il capitolo più breve è il capitolo dove appunto non ci sono ma lasciamo perdere virtuosismi perché ripeto ce n'è meno qui che altrove perché la terza persona non li ammette però non c'è tecnica diciamo è più naturale è una lezione che io mi sono preso da Fenoglio e mi sono detto ma io dovrei scrivere praticamente solo cover di Fenoglio allora scriverei meglio e quindi anch'io lì ho detto al diavolo David Foster Wallace però è anche vero che per scrivere quel capitolo che era già scritto da Fenoglio ci ho messo di più che a scrivere quegli altri e quindi dico ma ce la farò a scrivere tutto un romanzo come lo scriverebbe Fenoglio oltretutto oltretutto quel racconto aveva due o tre punti che chiedevano a me di essere riscritti cioè sembrava scritto per me anche cambiando le cose questo forcone che il padre fa balenare ha un palmo dal naso del bambino che lo sta seguendo perché ha pensato il padre adesso va giù al gorgo e si butta e si ammazza allora gli vado dietro e lo salvo e lui non lo vuole il suo bambino era andato giù col forcone per rovesciare delle balle e per mandarlo via gli fa così col forcone che è una cosa cioè il padre che scaccia il figlio col forcone allora io poi invece ho una sorella invece che il padre non ho il forcone ma ho una sagola una scotta con la quale questa dice vado in spiaggia a legare la barca e lui dice questa si va a buttare ai mulinelli e quindi gli fa balenare questa cosa a me questa idea di questa materia inerte che invece viva e guizza a 10 cm dagli occhi di un bambino che ha pensato non si sa se ha ragione o se ha torto ma che questa persona lui cara si sta andando a ammazzare quindi va a salvarlo e questa persona per difendere il proprio diritto di ammazzarsi arriva così vicino da colpirlo con un forcone o con una sagola a me quella è un'immagine mi pare di averla portata dietro nella vita da sempre e quindi mi sono sentito autorizzato anche appunto a fare questa cover però è vero che non c'è bisogno non c'è bisogno di Finchion e non c'è bisogno di basta Fenoglio in effetti basta Fenoglio però non è che sia facile vorrei chiedere una cosa è come se l'assenza di passione in questo libro ti permettesse però di dare spazio molto più che in altri tuoi romanzi a tante figure femminili e dargli un'importanza grandiosa che non ci fosse preponderante l'idea dell'amore per questa Luisa perché l'amore per questa Luisa quando poi si può concretizzare lo vediamo che non si concretizza e quindi è quella roba lì non stinge nella sua vita ma la accompagna come nel sogno come nel sogno che ha letto Fabrizio perché quella diciamo è un po' la ricapitolazione di tutta la loro storia e e questo permette a tante altre donne di essere molto vive anche carnalmente vive perché se una passione diciamo divorante ti brucia per tutta la vita con la stessa donna oppure con mille donne è uguale non cambia nulla però di tipo sessuale e quella è la cosa preponderante è chiaro che ci sono dei limiti nei tuoi rapporti con tua madre con tua sorella con tua figlia con la tua collega d'ufficio perché se non rientra nella sfera delle donne desiderabili o desiderate delle donne possedute è chiaro che deve stare due o tre passi indietro abbiamo una letteratura ricchissima anche di capolavori di personaggi maschili che devono per forza disperatamente da Don Giovanni in là insomma devono per forza possederla la bellezza io l'ho trovato molto interessante questo aspetto del libro da donna da letterice perché è estremamente moderno contemporaneo non so come dire lo dico ai lettori non c'è solo Luisa c'è la sorella c'è la figlia Luisa non c'è abbiamo sentito Luisa non c'è ma c'è c'è e non c'è le altre invece ci sono tutte e sono tutte accompagnate da questo psicoanalista perché magari il problema sono io per loro e quindi dai ore e ore e l'unico modo per difendersi sarebbe andare anche lui dallo psicoanalista per difendersi e no c'è un modo abbastanza nuovo di parlare delle donne in questo libro questo è interessante questo lo figlio me lo porta a casa adesso però io sono curioso di sapere cosa ha deciso di leggere Fabrizio perché non me l'ha detto questa è la sorpresa è la sorpresa da quello che avete detto credo che sarà quello che ho scelto sia il meno fenogliesco diciamo del capitolo di tutto il libro forse qualcuno potrebbe dire il più virtuosistico in realtà è una cosa straordinaria secondo me c'è stata anche una lunga gestazione con Sandro intorno a questo capitolo la faccio breve vi chiedo un pochino più di pazienza perché è un capitolo che va 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 assecondato il vento fino alla fine diciamo non si può proprio è impossibile anche tecnicamente estrarre dei pezzi perché non ci sono punti e virgoli shakul and company 2012 e infine venne venne la telefonata che tutti i genitori temono come l'inferno perché è l'inferno è la porta dell'inferno e per fortuna viene per pochi terrorizza tutti ma viene solo per pochi genitori disgraziati predestinati segnati viene solo per pochi sventuratissimi genitori abbandonati da dio ma è temuta da tutti è la più temuta è quella che viene nel cuore della notte ma non fu questo il caso la più terrorizzante è quella che sveglia di soprassalto nel cuore della notte ed è talmente terrorizzante che viene anche quando non viene nel senso che l'abbiamo ricevuta tutti anche se non l'abbiamo ricevuta perché abbiamo ricevuto tutti una telefonata nel cuore della notte almeno una volta che ci ha svegliato di soprassalto e ci ha gelato il sangue nelle vene all'istante la sveglia segnava le 3.40 o le 4.17 e abbiamo tutti pensato subito a quello e abbiamo aspettato a rispondere mentre il telefono continuava a suonare per pregare sì anche quelli di noi che non erano credenti pregare che non fosse per quello che stesse magari andando a fuoco la nostra macchina giù in strado il palazzo accanto ma del resto non è mai la macchina o il palazzo accanto che vanno a fuoco dream lo sappiamo bene dunque tutti abbiamo esitato a rispondere pregando che la vittima fosse qualcun altro almeno per pietà dio misericordioso padre onnipotente io non ti ho mai pregato perché sono un deficiente dream e ti ho trascurato infranto le tue leggi ho peccato contro di te e ti ho bestemmiato stupida arrogante che non sono altri non sono degno di pronunciare il tuo nome non merito niente certissimamente finirò all'inferno dream e tuttavia ti prego padre qui ora su questa terra dal più profondo del mio cuore in ginocchio per terra inchinata a terra sdraiato in terra ti supplico che questi non siano gli squilli di quella telefonata dream proprio di quella ti prego di prenderti me ora subito ma è chiaro che non è me che hai deciso di prendere è chiaro che io dovrò rimanere in questa valla a soffrire e allora ti prego di prenderti mia madre ecco il che mi spezzerebbe il cuore ma prendi lei o mio padre o mia sorella o mio fratello e ti prego di prenderti anche tutto quello che possiedo e anche la mia salute di fare di me un orfano dream o un mendicante un ammalato ma non padre onnipotente ti prego ti supplico ti imploro non fare di me un e qui tutti noi ci siamo fermati perché la parola che dovevamo pronunciare non esiste tutti noi italiani francesi inglesi tedeschi spagnoli portoghesi ci siamo fermati perché in nessuna di queste lingue esiste quella parola mentre però esiste per noi ebrei per noi arabi per noi greci antichi e moderni per moltissimi di noi africari e per noi locutori superstiti in lingua sanscrita ma cambia poco in fondo cambia che alcuni di noi hanno potuto chiamare quell'inferno con un nome e altri nodri mentre tutti pregavamo terrorizzati invece di rispondere al telefono che continuava a suonare nel cuore della notte e poi alla fine abbiamo risposto e magari non era nessuno ecco questo è possibile è più probabile che non sia nessuno piuttosto che sia la macchina che va a fuoco pronto? pronto e non è nessuno sì questo accade spesso uno scherzo magari lo scherzo atroce di farci credere che sia giunto per noi il tempo di ricevere quella telefonata e terrorizzarci nel cuore della notte fino a farci recitare la preghiera più straziante che si possa concepire e anche nostro fratello Marco l'avrebbe recitata ma non fu il caso poiché stessa la telefonata quella telefonata per lui venne sì ma non di notte bensì di pomeriggio di domenica d'autunno nella luce fessa delle 4.35 la nipotina addormentata sul divano con la testa sulle sue gambe lui intenta guardare oltre il giardino alla tv e dunque in pace soddisfatta appagato perfino lontano dall'ansia che per anni l'aveva attanagliato quando Adele se ne andava nei weekend con quei ragazzi che gli erano parsi in gamba gli erano parsi responsabili a posto e per questo la lasciava andare insieme a loro l'aveva sempre lasciata andare fin da quando era adolescente siccome era molto dotata certo le prime volte era andata anche lui l'aveva accompagnata ma da un dato un momento in poi non era andato più perché era imbalazzante via era l'unico genitore al seguito era quasi peggio che non mandarcela e così da un momento in poi era rimasta a casa ad aspettare in ansia certo non importa se di mattina di pomeriggio di sera morso dal dubbio farò bene farò male Adele ama profondamente questi sport ma sono anche pericolosi insomma non è come fare una partita di tennis e ad Adele il tennis non era mai piaciuto solo la scherma da piccolo e già lì c'era un'arma c'era un simbolo di sangue di morte di pericolo e insomma quelle sfide lampanti alla forza di gravità le onde le arrampicate catartiche sì ma pericolose avrebbe anche potuto vietargliele era nel suo diritto rientrava nei suoi poteri di genitore oppure non vietargliele e lui aveva deciso di non vietargliele e la lasciava andare e sopportava in silenzio l'ansia che ne derivava e temeva sempre in silenzio di ricevere quella terribile telefonata nel cuore della notte ogni santa volta che andava a dormire e Adele era fuori lo temeva in silenzio sempre prima di addormentarsi quando si svegliava per andare al gabinetto prima di riaddormentarsi non riuscendo a riaddormentarsi prendendo goccioline per riaddormentarsi rivotril xanax ansiolin e però bisognava riconoscere che mai nulla era successo mai negli anni nemmeno il minimo incidente né di giorno né di notte nemmeno un graffio una slogatura niente di niente se si accettò vabbè che da una di quelle zingarate un giorno gli era tornata incinta certo ma quella era un'altra faccenda e lui l'aveva accettata incinta a vent'anni senza notizia del padre tutto accettato in silenzio senza dare a vedere il proprio tormento e farò bene farò male perché d'altra parte Adele era in gamba era brava coscienziosa affidabile ce l'aveva fatta e si trattava di un autentico miracolo in realtà considerando quello che aveva passato da piccola sballottata traumatizzata in Italia in Germania di nuovo in Italia a Roma a Monaco a Firenze con una madre pazza diciamolo e un padre stupido che non aveva saputo proteggerla col dolore che le grondava addosso da tutte le parti roba da diventare disfunzionale per principio invece era venuta su sbalorditivamente bene si era affidata alla disfunzionalità solo quando c'era da segnalare il pericolo che i suoi genitori ancora non percepivano ed ecco comparire il filo dietro la schiena ed era guarita quando i suoi genitori avevano dato prova di cominciare a capire il filo era sparito e vi si era affidata di nuovo quando tutto invece era esploso ed ecco ricomparire il filo fino a trasformare Monaco di Baviera in una ragnatele inestrecabile invivibile e indicare così la soluzione ai suoi genitori inadeguati la madre pazza il padre che non aveva saputo proteggerla insomma aveva guidato lei si può dire servendosi di quel filo la sua disgrazietissima famiglia non diciamo verso il bene perché parlare di bene non si può proprio ma verso il male minore sì ecco e nostro fratello Marco almeno questa alla fine l'aveva capito si era accorto che in sua figlia era contenuta una poderosa selvaggia sapienza e si era sforzato soltanto di darle stabilità perché solo di questa Adele aveva bisogno alla fine un po' di stabilità ancorché dolorosa con le visite periodiche alla madre in sanatorio con l'amore inesprimibile per la sorellina tedesca e la saggia decisione di viverlo appieno quando entrambe fossero diventate più grandi dolorosa e complessa dunque ma pur sempre stabilità ciò che Adele non aveva mai conosciuto alla quale aveva finalmente potuto appoggiarsi riarrotolando per sempre quel filo e diventando quel che si dice una ragazza modello e da un certo momento in poi una ragazza madre modello che studiava e lavorava e andava per onde o per balsi e quando andava per onde o per balsi lui rimaneva con la piccina mira i gin sua nipote ed era giusto così Adele andava a ricaricare la sua sapienza nel cuore selvaggio della natura lui la aspettava a casa con la piccina le dava stabilità e l'ansia se la gestiva in silenzio aveva passato anni così e sembrava proprio che avesse fatto bene ad accettare a perseverare a lasciarlo andare sembrava proprio che fosse valsa la pena di rischiare finché quella telefonata venne infine e lui scoprì davvero di essere uno segnato allora abbandonato da dio molto ma molto più di quanto egli credesse già credeva di esserlo parecchio fin dal tempo della morte di sua sorella Irene venne la telefonata che tutti i genitori temono ma soltanto pochi ricevono pochi disgraziati segnati predestinati per i quali in moltissime lingue non esiste nemmeno il nome ma esiste per esempio nella lingua ebraica shakul proveniente dal verbo shakal che significa per l'appunto perdere un figlio ed esiste in arabo taakil con la medesima radice in sanscrito viloma letteralmente avverso all'ordine naturale ed esiste in moltissime varianti nelle lingue della diaspora africana e in senso meno univo che esiste anche nel greco moderno karokamenos che significa bruciato dalla morte riferito genericamente a colui che viene piegato da un lutto ma è usato quasi soltanto per indicare proprio il genitore che perde il figlio che poi su questa cosa del perdere i figli aveva già parlato una volta per tutte uno degli oracoli della giovinezza del nostro fratello Marco lo sa che io ho perduto due figli signora lei è una donna piuttosto distratta perché in effetti a pensarci non è che abbia senso questo fatto di perdere qualcuno quando qualcuno muore cioè di essere il soggetto della sua morte ho perso mia figlia me la sono fatta venire a mancare ho lasciato che morisse io 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 non ha senso questo pronome quasi osceno quando muore qualcun altro e tuttavia quando muore un figlio un senso ce l'ha purtroppo perché da qualche parte c'è sempre la responsabilità o proprio la colpa del genitore che non ha impedito come era suo dovere che non ha scongiurato non ha evitato non ha protetto non ha previsto che ha lasciato succedere dunque ha lasciato morire dunque ha perso il figlio o la figlia insomma venne per nostro fratello Marco la telefonata che azzerò la sua vita e venne di pomeriggio di domenica d'autunno e la sua vita già azzerata altre volte si azzerò di nuovo solo che lo zero nella vita non esiste infatti Mirei Jin dormiva con la testa sulle sue ginocchia e mentre lui cercava di respirare perché nemmeno quello gli riusciva più era Shakul da pochi secondi non gli avevano proprio detto quello erano stati delicati ma lui aveva capito benissimo era Takil era Viloma era Korakammenus da pochi secondi e i polmoni erano bloccati e l'aria un filo rovente la pancia era un buco senza fine la testa un tamburo è più vicina di così allo zero una vita non può essere Mirei Jin si svegliò dolcemente e gli sorrise e aveva compiuto due anni da un mese e così facendo cioè semplicemente svegliandosi e sorridendogli gli disse nonno non pensarci non pensarci nemmeno gli disse non scherziamo gli disse nonno ci sono io devi sopportare alla fine voglio ringraziare per fermarmi a questa giornata qua a questa mattinata Maria Ida che mi ha invitato qua che è un bel posto diciamocelo appunto sembra 2001 di Sera nello Spazio poco prima che al 9000 impazzisca poi voglio ringraziare Fabrizio che è un amico recente però lo sento come amico perché anche prima di questa cosa che ci ha unito a distanza soprattutto su questo capitolo io l'avevo sentito molto non solo il lavoro ma la capacità di interpretare come avete sentito le mie parole in questo modo veramente mi lega a lui e poi Edoardo al quale sono già legato talmente tanto che non posso dire che queste parole che ha detto che ha pronunciato oggi questo legame lo aumentino perché non è possibile però è vero anche che dopo essere essersi conosciuti e essersi frequentati e avere fatto un sacco di cose insieme tra cui anche naufragare insieme in mare ed essere soccorsi però non lasciati lì e devo dire che insomma mi ha toccato molto che abbia da scrittore da scrittore che quando devo dire me l'hanno chiesto anche ieri a Pisa Book Festival uno scrittore italiano Albinati uno scrittore italiano Albinati io ho sempre vissuto con il mito di Albinati che è stato era più grande di me aveva aveva tre anni più di me aveva già le idee chiare lui voleva fare lo scrittore scriveva poesie già molto belle e e mi ha trascinato diciamo con la sua convinzione che questa cosa fosse possibile mi ha trascinato nel desiderio e poi nell'atto di fare lo scrittore quindi le sue parole quella il suo pensiero organizzato sul mio libro anche se non è la prima volta anche se non c'è verso aggiungere di più al bene che gli voglio però sono state una cosa che mi ha toccato molto devo dire e in un periodo come quello di queste settimane che io mi aspetto sempre ad andare a sbattere contro il fondale finto che viene fuori il regista dice vai ecco perché non mi era mai successo di scrivere un libro e vederlo andare così bene subito così però questa cosa è un di più che non riesco a spiegarvi che proprio Edoardo qui stamattina abbia detto certe cose legate proprio anche alla difficoltà lui sa quanto è difficile scrivere e sono stato veramente toccato e quindi anche a lui devo un ringraziamento speciale e poi ringrazio anche tutti voi che siete venuti qui una domenica mattina quando potevate andare a fare un giro c'è anche insomma un bel tempo grazie